Il primo diventa secondo e viceversa. Nelle mense scolastiche di Alassio va in tavola la rivoluzione delle portate. Si abbandona la tradizione che vede un pasto composto da primo, secondo contorno e dolce e da oggi il secondo con il contorno vengono serviti per primi. La decisione nasce da un accordo fra i dirigenti scolastici e il pediatra dell'asle 2 Savonese. La motivazione sta nel fatto che in molti casi i bambini si abbuffano con il primo e lasciano il secondo perdendo così importanti valori nutrizionali. Da qui l'approccio sperimentale voluto da Alassio è adottato anche in altre regioni d'Italia. Si valuterà dopo una fase sperimentale come questa novità sarà recepita dalle famiglie e dai bambini per fare le opportune valutazioni in merito.